Siamo su via Balestra e questo qui è il Nikis, che tra l'altro è vicino al mio negozio, andiamo dentro a vedere. Siamo da Nikis e vedete, potete spostare il mouse, qua siamo sul bancone, c'è la macchina, il caffè qua dietro. Sempre da Nikis, potete spostare il mouse da tutte le direzioni, qua ci sono i cuori, qualcuno che sta preparando, è una camera 360 gradi, e niente, qua è il cuore del Nikis. Se girate il mouse da quella parte lì, ci sono i panettoni che crescono e lui è la mente dei panettoni, è una telecamera a 360 gradi, possono guardare tutti in cui ci sta. Mentre qua è il forno, qua sopra il forno.